In Napoli incontriamo due candidati di spicco, probabilmente capilista di questa nuova formazione politica, Daniela Tuccillo. Daniela è un nome importante nella città di Napoli. Come mai questa scelta politica? La voglia nasce dalla necessità di un cambiamento, un cambiamento radicale, quello che per anni, per 33 anni, con l'amministrazione diversa in questa città, tutti chiediamo, tutti vogliamo, ma nessuno ha mai agito, nessuno ha fatto nulla affinché questo accadesse. Nataliano Trombetta, anche questo è un nome veramente importante per l'imprenditoria napoletana, una famiglia storica nella città di Napoli. Quali sono i problemi, le problematiche che lei intende affrontare nell'eventualità dovesse essere letto? Essendo che io, per il lavoro che faccio, vivo molto la città, vivo molto i quartieri e so benissimo le problematiche che ci sono nei quartieri, soprattutto le problematiche che ci hanno abbandonato a livello nettezze urbane, ci sono fogne che non riescono a pulirle, non ci sono i cassonetti della spazzatura. E automaticamente il quartiere, il popolo ci lamenta tutti i giorni di questa amministrazione che per cinque anni non ha mai riuscito a risolvere il problema di Napoli.